a coltellamento a piedi mulera alla base della vicenda forse droga non pagata su quanto accaduto indagano i carabinieri a luglio incontro tra dipartimento materno infantile e pediatri di libera scelta per la riattivazione del country pediatrico all'ospedale san biado vive emozione ieri nel piazzale dell'ospedale per la patronale di domodossola in memoria delle vittime del covid ieri la prima sera di pedonalizzazione a pallanza con lo show dell'illusionista paolo carta tanta gente in piazza ha riaperto il museo del paesaggio di verbania prolungata fino a metà luglio la mostra con gli artisti contemporanei russi eventi in convivenza con il covid si possono fare un successo il picnic al lago delle rose di ornavasso ben ritrovati dalla redazione di vco notizie in apertura di giornale la cronaca con l'accoltellamento avvenuto a piedi mulera forse alla base del gesto della droga non pagata ma su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri sentiamo ci sarebbe una vicenda legata alla droga all'origine dell'accoltellamento avvenuto qualche notte fa a piedi mulera un atto compiuto da due uomini entrambi di nazionalità italiana accompagnati da una donna nell'alloggio abitato da un ventenne italo marocchino e dalla compagna sui 30 anni sudamericana i due sono stati malmenati il ventenne stato addirittura raggiunto da una coltellata al braccio subito sul posto sono arrivati i carabinieri i militari specializzati nei rilievi scientifici hanno raccolto varie tracce tra cui il sangue dell'uomo ferito sono in corso le indagini ma secondo le prime informazioni si tratterebbe di una sorta di spedizione punitiva per della droga non pagata i due responsabili hanno sfondato la porta sono entrati nell'alloggio in piena notte molti i vicini richiamati dalle sirene che hanno assistito alla scena dei rilievi è dei giorni scorsi sollecito da parte del consigliere regionale alberto preioni al direttore dell'asla angelo penna per la riapertura del country pediatrico a domodossola nelle prossime settimane incontro tra i vertici del dipartimento materno infantile dell'asla e i pediatri di libera scelta per discutere delle modalità di riattivazione del servizio presso l'ospedale san viaggio è convocato per fine mese al più tardi primi giorni di luglio l'incontro fra il direttore del dipartimento materno infantile dell'asl del vco e i pediatri di libera scelta per verificare la modalità di attivazione del country pediatrico la notizia contenuta nella lettera inviata dal direttore generale angelo penna al consigliere regionale alberto preioni il capogruppo leghista nei giorni scorsi aveva pubblicamente sollecitato l'asl sull'argomento la missiva del direttore penna ricostruisce l'iter che ha portato nell'autunno 2019 alla chiusura della struttura destinata all'assistenza pediatrica prime lavori poi l'emergenza coronavirus gli interventi per la sostituzione della pavimentazione in vinila mianto si sarebbero protratti se nei mesi invernali in coincidenza con l'avvio dell'emergenza sanitaria in tempo di covid i locali del terzo piano del corpo ad h del san viaggio sono stati in parte utilizzati per ospitare i medici inviati dalla protezione civile in aiuto al personale asl per la restante parte per stoccare letti tolti dai reparti chirurgici trasformati in aree di degenza covid sconfessate le voci che davano per certo la presenza al terzo piano di locali dedicati alla libera professione dei medici ospedalieri l'assistenza pediatrica attualmente confinata presso la sala obi del dea qui sono tenuti in osservazione bimbi che arrivano in pronto soccorso e che necessitano di cure altri due ambulatori dotati di ecografo sono attivati presso il punto nascite con questa attività scrive penna si è evitato di trasferire i pazienti pediatrici a verbagna se non in un solo caso nel dettaglio da gennaio a maggio 2020 le consulenze pediatriche effettuate al dea del san biage sono state 24.138 sono invece stati minori tenuti in osservazione breve due bimbi sono stati trasferiti al reparto di pediatria del castelli dove è attivata la presenza del pediatra in tutte le 24 ore e siamo ai consueti dati sul coronavirus che arrivano dalla regione piemonte ecco la tabella con i totali dall'inizio della pandemia vediamo le variazioni nel vicio due nuovi contagi ancora stabili decessi e due nuovi guariti 1.124 in totale i contagiati 132 le persone decedute 925 i pazienti guariti nel novarese sette nuovi positivi un nuovo deceduto nelle ultime ore e 34 nuovi guariti i totali 2.772 contagiati 355 decessi e 2.130 guariti uno sguardo anche ai dati regionali 23.573 pazienti guariti e 1.509 in via di guarigione e sei nuovi decessi in totale in piemonte 27 contagi in più rispetto a ieri per un totale di 31.215 i ricoverati in terapia intensiva sono 17 meno 5 unità rispetto a ieri e continuano a scendere anche i ricoverati positivi negli altri reparti e tanta emozione ieri sera per la patronale di domodossola nel piazzale dell'ospedale in ricordo delle vittime del covid e in omaggio a tutte le persone impegnate in prima linea nell'emergenza una serata diversa ecco cos'è stata la patronale domese ieri sera la santa messa celebrata in onore dei santi gervaso e protaso quest'anno è stata diversa una nota di tristezza ma anche tanta emozione alleggiavano tra le sedie bianche allestite in piazza lager nazisti il luogo non è stato scelto a caso oltre alla capienza a differenza della collegiata ha permesso ad un alto numero di domesi di assistere alla funzione religiosa da qui sono passati molti dei malati e delle vittime del coronavirus li hanno trasportati ambulanze a sirene spiegate prima di varcare il cancello verso i reparti del nosocomio domese il ricordo del lockdown dei morti del virus è stato il filo conduttore dell'omelia di don vincenzo barone l'arciprete ha confessato questa sera non è facile trovare le parole giuste il parroco attorniato dai sacerdoti della città ha ricordato la tristezza vissuta nei giorni del blocco totale la città ferma le porte della chiesa sbarrate la sofferenza nelle case come nelle corsie degli ospedali a nome della città ringraziato il personale sanitario che si è speso in prima persona per la cura dei malati spesso sacrificando la propria vita familiare ha invocato il signore i santi patroni perché diano a tutti la forza di guardare avanti ha parlato di necessaria speranza per tornare un giorno a poterci riabbracciare oggi però ancora non è arrivato quel tempo ha ricordato il parroco alle spalle dell'improvvisato palco trasformato in altare le luci accese di qualche stanza dell'ospedale malati e infermieri affacciati alle finestre a godere di quell'attimo un momento magico che i colori dell'imbrunire hanno reso ancora più emozionante già perché ai tempi del virus può anche accadere che i santi patroni arrivino in piazza non portati in spalla da volontari ma da una camionetta della protezione civile niente processione quest'anno sarà per l'anno venturo e a regolare l'accesso e l'uscita dalla piazza improvvisata a chiesa en plein air c'erano i volontari ai b alpini poliziotti finanzieri e carabinieri in congedo e naturalmente i ragazzi dell'oratorio domese prima dei saluti don vincenzo ha chiamato sull'altare il sindaco lucio pizzi in fascia tricolore ha ricevuto in dono l'effigie dei santi patroni a loro il compito di proteggere domodossola e i suoi residenti e fratelli d'italia sarà con il sindaco di domodossola lucio pizzi in caso di ricandidatura oggi l'annuncio in conferenza stampa nuovo iscritto locale al partito di giorgia meloni e il sindaco di piedi mulera alessandro lana fratelli d'italia sarà con il sindaco pizzi in caso di sua ricandidatura alle prossime elezioni comunali e domodossola è stato annunciato stamattina nel corso della conferenza stampa di fratelli d'italia dal vice sindaco domese angelo tandurella che ha parlato di una posizione chiara senza condizioni la garanzia per noi sono stati questi quattro anni di ottimo governo dell'amministrazione pizzi ha sottolineato tandurella ed iniziando anche la sinergia con gli altri livelli istituzionali del partito presenti l'assessore regionale all'istruzione lavoro elena chiorino che si è soffermata sui temi di competenza e l'onorevole andrea del mastro che ha puntato i riflettori sul livello nazionale come membro della commissione affari esteri ha spiegato che in tema di accordi trasfrontalieri italia svizzera gli emendamenti di fratelli d'italia saranno tutti elaborati nel vco e che quindi questo territorio avrà un ruolo da protagonista in questo ambito presente anche il sindaco di piedi mulera alessandro lana per la prima volta lana ha annunciato l'iscrizione a un partito per noi è un grande orgoglio è un sindaco che sta facendo bene commenta tandurella lana ha motivato la sua adesione al partito di giorgia meloni con la coerenza nazionale che il movimento ha sempre dimostrato e con il rapporto personale diretto esistente tra i vari livelli che porta risultati concreti fratelli d'italia ha dato il via oggi alla marcia di avvicinamento all'appuntamento con le urne per il rinnovo dell'amministrazione domese dal prossimo sabato la presenza degli esponenti del partito al mercato cittadino presenti anche i coordinatori ossolani davide titoli e quello provinciale luigi sonda come annunciato nei giorni scorsi è riaperto oggi pomeriggio il nuovo ponte tra crevola d'ossola e monte crestese i lavori non sono terminati mancano alcune opere accessorie ma l'infrastruttura ora è transitabile in ambo i sensi e in sicurezza si è deciso di aprirla non appena possibile visti i disagi causati nei mesi passati al traffico locale è stata l'autovettura dell'amministrazione provinciale con a bordo il presidente lince il consigliere porini a transitare per prima sul nuovo ponte sul toce fra crevola d'ossola e monte crestese è successo le 15 di questo pomeriggio per la cerimonia ufficiale di inaugurazione bisognerà aspettare la metà di luglio quando anche le ultime opere accessori saranno realizzate una dimostrazione particolare di efficienza dell'apparato provinciale in tempo di covid non c'è stata alcuna interruzione anche grazie all'autorizzazione prefettizia siamo completamento mancano le opere di finitura il tappetino d'usura segnaletica orizzontale e quelli che sono le opere complementari a margine dei lavori però abbiamo ritenuto oggi di dare questo importante significato di apertura e ho visto che la gente l'apprezza molto finisce così l'isolamento viario fra monte crestese crevola d'ossola iniziato sul finire di ottobre e protattosi qualche settimana in più rispetto al cronoprogramma a causa del coronavirus sebbene la ditta d'epa di trani non abbia mai fermato il cantiere è stata la difficoltà reperire i materiali a rallentare i lavori un'opera costata circa 630 mila euro e che servirà nel breve a migliorare la viabilità ordinare in zona pontetto in futuro ad accogliere smaltire il traffico proveniente dalla vecchia strada del sempione ora provinciale quando anas darà il via ai lavori di messi in sicurezza della galleria di monte crevola all'apertura al traffico del nuovo manufatto oggi erano presenti anche il sindaco di crevola d'ossola giorgio ferroni l'assessore al commercio di monte crestese angelo tanferani in rappresentanza del sindaco punchia entrambi gli amministratori oltre a ringraziare la provincia per l'investimento fatto hanno salutato con favore la riapertura del ponte questa nuova opera renderà più sicuri il passaggio dei mezzi dei pedoni hanno rimarcato da monte crestese il sindaco ferroni si è complimentato per il lavoro di raccordo fatto con la pista ciclabile che porta verso l'oasi del lago tana un progetto di valorizzazione ambientale importante per il nostro comune ha detto ferroni non a caso il comune ha partecipato ad un bando gal per la realizzazione in zona di una pista dedicata al passaggio di soggetti diversamente abili ancora problemi di ordine pubblico nella notte a verbania doppio intervento dei carabinieri a intra i controlli sono stati intensificati dopo gli episodi di risse segnalati e in particolare l'aggressione dei due panettieri a pallanza i militari della stazione di gravellona toce sono intervenuti in vicolo del mulino dove erano stati segnalati vari giovani che in gruppetti disturbavano i residenti delle case vicine i giovani però si erano già allontanati quando sono arrivati i militari è stato invece denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere un tunisino di 24 anni trovato in possesso di un coltello a serramanico lo stesso in compagnia di un altro avrebbe anche danneggiato la vetrina di un negozio in via san vittore ed ora la prima sera di pedonalizzazione a pallanza con lo show dell'illusionista paolo carta tanta gente in piazza è un bacio verso il cielo per chi non c'è più ma anche l'invito a ricominciare tutti insieme tanta gente ieri sera sul lungo lago di pallanza per la prima serata di chiusura al traffico della passeggiata l'iniziativa lanciata dall'amministrazione comunale ha debuttato e proseguirà fino a settembre il venerdì sabato e domenica dalle 18 e 30 alle 24 per la prima sera è stato proposto lo spettacolo dell'illusionista verbanese noto a livello nazionale paolo carta con sarah renesto ad assistere in prima fila c'era il grande trasformista arturo brachetti la serata è stata introdotta dal saluto dei sindaco e dall'assessore giorgio comoli per un evento che ha avuto il valore simbolico della rinascita dopo gli ultimi difficili mesi sono state ricordate le vittime verbanesi del covid e tutti i sanitari i soccorritori le forze dell'ordine che si sono spese per gli altri il presentatore gialluca trentini ha invitato tutti a mandare un bacio verso il cielo per chi non c'è più e a ricominciare tutti insieme organizzare eventi prima era scontato ora ci siamo dovuti conquistare questa serata detto il sindaco è una prima sfida per permettere a cittadini e turisti di vivere pallanza nella sua bellezza per pensare al futuro con le attività commerciali e gli esercenti e per vivere dei momenti sereni questa sera come ogni sabato sarà attivo un servizio di bus navetta con vco trasporti dal parcheggio dell'esse lunga venerdì 26 in programma la serata lo sport riparte con esibizioni delle società sportive della città insicurezza e uno spettacolo di calcio acrobatico di suana ritossa tre cuccioli di cane appena nati sono stati abbandonati in un cassonetto dell'immondizia è successo a premia solo l'intervento del farmacista del paese ha evitato il peggio il farmacista sentiti i lamenti dei cuccioli provenienti dal cassonetto ha avvisato il personale del comune che ha immediatamente recuperato gli animali che sono stati trasportati in una clinica veterinaria dell'ossola spero che la locale stazione dei carabinieri che si è prontamente attivata scopra la persona che ha compiuto questo atto vergognoso commenta fausto braito il sindaco di premia ed ora la storia di due fortunati rapaci che malati sono stati curati e ora sono tornati a volare liberi nel cielo sono un assiolo e una poiana i protagonisti di questa storia nuove liberazioni da parte della polizia provinciale dei carabinieri forestali di animali trovati feriti e tornati in natura dopo le cure del veterinario dottor uberto calligarice della moglie alessandra l'assiolo un esemplare adulto in questo caso è una rarissima presenza nelle nostre zone si tratta di un rapace notturno è stato soccorso a pallanza in piazza san leonardo lo scorso 3 maggio si trovava in grande difficoltà e non era in grado di volare soccorso dagli agenti della polizia provinciale dopo alcune settimane di assidue terapie veterinarie è tornato pienamente in salute ed è potuto tornare a volare libero nel cielo salutato da alberto scarsetti della polizia provinciale nella piena di fondotoce un importante contributo al mantenimento dell'esiguo numero di questi importanti animali che negli ultimi anni hanno iniziato a frequentare il nostro territorio presso il parco di villa pallavicino poi dopo una verifica funzionale nel tunnel di involo del parco e dopo l'inanellamento da parte di marco bandini i carabinieri forestali di macugnaga hanno liberato un esemplare di poiana adulta l'animale era stato soccorso il 31 maggio dal maresciallo bevi l'acqua per lesioni gravi alla testa in particolare a un occhio e al dorso causate da un predatore è stato curato presso la struttura del veterinario calligaric a san bernardino verbano anche la poiana ha recuperato completamente una buona condizione fisica e con decisione ha preso il volo durante l'emergenza sanitaria con gli inevitabili risvolti sociali importantissimo il supporto della rete solidale che si è creata a omegna lo sottolinea l'assessore sabrina proserpio che ringrazia tutte le persone impegnate a favore degli altri e domani sotto i portici del municipio tornano i cannoli solidali dalle 9 alle 12 sempre a sostegno del fondo omegna c'è abbiamo avuto un grande risultato devo dire che la collaborazione con gli enti del terzo settore è stata fondamentale per la città di omegna come amministrazione comunale non posso che dire grazie a tutti loro abbiamo collaborato in modo particolare con casa mantegazza qui fanno riferimento sia la caritas che la san vincenzo ma gli aiuti ci sono arrivate da tutte le associazioni presenti sul territorio ricordo in modo particolare la prossima ecdute la user e gli alpini che in questo momento ci hanno dato una grandissima mano anche per quanto riguarda poi la consegna della spesa a domicilio che è stato un servizio particolarmente apprezzato dagli over 65 che erano la categoria più protetta la quale dovevamo tutelare il mio ringraziamento poi va in modo particolare anche ai supermercati che si sono dati disponibili oltre che nella preparazione delle spese hanno dato anche un contributo economico notevole ulteriore per cui veramente devo dire un grandissimo grazie a tutti quanti i vigili del fuoco che hanno fatto una raccolta interna e che hanno poi consegnato anche dei generi alimentari ricordo anche il cantante della solidarietà che sempre si spende per i cittadini omenesi per cui veramente mi piace pensare che eravamo un corpo unico dove c'era una testa delle braccia ma quello che ha fatto la differenza erano il cuore e il cervello e soprattutto l'anima di questa città magari anche un ponte verso il futuro come nell'emergenza questo modello può essere preso appunto ad esempio anche per le emergenze future anche per l'ordinarietà futuro sì anche perché ci sono anche delle altre associazioni che quotidianamente posso dire dando una mano alla città di omenia già domenica avremo un'altra iniziativa che quella del cannolo solidale in collaborazione con la kb benzio bellotti che si è contraddistinta anche per la pizza mamma che è un'iniziativa particolarmente apprezzata dalle famiglie di omenia quindi devo dire che l'emergenza ha creato purtroppo una necessità alla quale abbiamo risposto mi auguro in maniera adeguata e che può essere comunque un modo per imparare a collaborare in futuro e a gestire meglio eventuali altre emergenze che ci auguriamo che non vengano però purtroppo dobbiamo essere preparati a tutto quanto quindi veramente un grazie a tutti oggi pomeriggio ha riaperto dopo la chiusura forzata il museo del paesaggio di verbania è allestita fino alla metà del prossimo mese resta allestita la mostra delle sculture di artisti russi contemporanei in dialogo con la gipsoteca trubezkoi e poi il pubblico può ammirare le collezioni permanenti del museo che vantano nomi come mario tozzi o federico ashton da oggi il museo del paesaggio riapre le porte ai visitatori con qualche piccola nuova regola per la visita quindi è obbligatorio tenere la mascherina durante tutta la visita mantenere le distanze di sicurezza e igienizzarsi le mani all'entrata durante il percorso sono stati posizionati delle colonnine igienizzanti e è stato creato un percorso unico di visita che prevede l'entrata dal bookshop e l'uscita dallo scalone d'onore per evitare il contatto tra il pubblico che entra e quello che esce fino a metà luglio sarà possibile visitare la mostra nei labirinti dell'anima russa che è stata interrotta bruscamente con l'arrivo dell'emergenza covid presenta quattro scultori contemporanei che sono in dialogo con le sculture di paolo trubezkoi della nostra gipsoteca il museo riapre con le sue collezioni quindi la gipsoteca trubezkoi al piano terra che ospita più di 200 opere dello scultore russo e la pinacoteca al primo piano con paesaggi ottocenteschi che vanno dal naturalismo al divisionismo e inoltre una sezione di arte di novecento con tele di mario tozzi e sculture di arturo martini uno dei più grandi artisti del novecento italiano il museo è aperto tutti i sabati e le domeniche pomeriggio dalle 15 alle 18 è possibile consultare le modalità di visita e gli orari sul nostro sito www.museodelpaesaggio.it è possibile sostenere il museo acquistando una tessera di ingresso annuale da regalare magari alla propria famiglia o ai propri amici che consente l'ingresso illimitato al museo durante un anno intero negli orari di apertura gli eventi in tempo di convivenza con il coronavirus si possono fare serve però organizzazione lo dimostra il successo raccolto oggi dalle picniche al lago delle rose di ornavasso destinato alle famiglie con una serie di attività per i più piccoli pubblico arrivato anche dalla zona di ancona e poi dal nostro tradizionale bacino di riferimento l'alto piemonte e la lombardia già tutto esaurito anche per il bis del primo weekend di luglio è stata un po la prova del nove sul territorio la prima manifestazione con 200 persone e tra queste molti bambini dopo il lockdown con la necessità di rispettare le nuove regole e tutto ha funzionato bene come dire gli eventi si possono organizzare anche in mesi di convivenza con il coronavirus parola di antonio longodorni promotore oggi del picnic al lago delle rose di ornavasso destinato alle famiglie con tiro con l'arco ricerca dell'oro liberazione di farfalle autoctone e di pesci 60 i tavoli allestiti sono arrivate persone anche da ancona che trascorreranno qui il weekend spiega longodorni per il resto il pubblico proveniva dal nostro bacino d'utenza classico l'alto piemonte la vicina lombardia l'evento odierno aveva subito fatto registrare il tutto esaurito così come il bis previsto per il primo fine settimana di luglio parola d'ordine organizzazione abbiamo 11 anni di esperienza nel settore ha spiegato longodorni cui fa capo anche la grotta di babbo natale l'elemento chiave è la prenotazione aggiunge abbiamo seguito un po il modello delle prenotazioni aeree così a ciascuno è stato garantito il proprio tavolo magari vicino a quello degli amici e il necessario spazio e se pensate che mascherina e distanziamento sociale tra non congiunti abbiano pesato sull'atmosfera siete sulla strada sbagliata il pubblico ha vissuto molto bene e serenamente l'intero evento e c'era molta voglia di attività all'aria aperta precisa longodorni le regole da seguire sono state simili a quelle per i ristoranti mascherina durante le attività esperienziali e nelle aree comuni libertà al proprio tavolo durante l'escursione nei dintorni e un po' di relax sul prato buona la partecipazione anche alla passeggiata alla scoperta della linea cadorna e al santuario del boden dove è allestita una bella mostra dedicata agli ex voto in tempi di pandemia l'organizzazione della grotta di babbo natale prosegue a luglio e agosto con una serie di attività sempre legate alle famiglie oltre al già citato bis al laghetto delle rose evento simile ad alagna e poi crociera alle isole pescatori e bella in programma pure una notte in tenda a macugnaga e l'escursione domodossola macugnaga saspe ed è tutto per questa edizione del nostro giornale per gli aggiornamenti c'è il nostro sito internet vcovazzurra tv.it e poi ci sono le nostre pagine social grazie per essere stati in nostra compagnia buon proseguimento con i nostri programmi e buona domenica grazie